Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi per la prima volta facciamo insieme il panettone. Dopo il pandoro non poteva mancare il classico dolce di Natale. Io l'ho fatto semplice, senza canditi, perché la voglia di fare il panettone era troppa. Quindi l'ho provato così, ma voi potete usare i canditi che preferite, oppure altro tipo di sospensioni. Questa ricetta è perfetta anche per essere farcite con delle creme, che poi faremo in futuro. E adesso andiamo a prepararlo insieme. Qui come sempre abbiamo il nostro lievito madre, ma vi ricordo che questa ricetta può essere fatta anche con il lievito di birra, poi vi rimango giù nell'info box le dosi per il lievitino. Quindi abbiamo 100 g di lievito madre rinfrescato e raddoppiato. 95 g di zucchero. 80 g d'acqua. 215 g di farina. Io uso una farina che ha 15 g di proteine. 120 g di tuorlo. Iniziate ad imbastare. Io come vedete non vi faccio vedere una farina specifica, ma vi dico solo le proteine che ha. Perché non mi piace darvi una marca, perché quando vi do una marca precisa è perché è una sponsorizzazione, quindi non mi piace. Basta leggere le etichette. Anche per il burro stessa cosa. Esistono burri ottimi anche al discount. Basta leggere le etichette. Iniziamo ad aggiungere il burro. Il burro sono 135 g. L'ho lasciato a temperatura ambiente prima di iniziare la ricetta per circa 20 minuti. Mi raccomando, il burro va aggiunto sempre un pezzetto alla volta e non aggiungete il successivo se il precedente non è stato ben assorbito. Qui vi mostro l'etichetta del burro. Come vedete deve avere l'82% minimo di grasso. Questo è un burro tedesco. Una volta che avete finito di aggiungere tutto il burro, aumentate la velocità della planetaria, portatela sul 2 e lasciate incordare l'impasto. A me sono bastate all'incirca 15 minuti. Come vedete l'impasto è quasi pronto. E adesso pirlatelo. Io ho voluto pirlarlo tra le mani perché vedete c'è un impasto che si maneggia facilmente. All'inizio è un pochino leggermente più appiccicoso, ma poi facendo questi movimenti si stacca benissimo. E poi è un piacere maneggiare questo impasto. Adesso trasferitelo in un contenitore. copritelo con coperchio. Lasciatelo triplicare a temperatura ambiente. Mi raccomando, a me sono bastate all'incirca 13 ore. Però poi ogni lievito reagisce in modo diverso. Poi dipende dalla temperatura che avete in casa, da tanti fattori. Però mi raccomando, non fate l'impasto successivo se il vostro primo impasto non è ben triplicato. Non abbiate fretta. Eccolo qui. Guardate che meraviglia. E adesso subito in planetaria per il secondo impasto. Potete anche mettere l'impasto nel forno spendo con luce accesa. O coprirlo con una copertina se avete una temperatura leggermente più bassa nella vostra cucina. Però vi ripeto, non abbiate fretta perché se non è perfettamente triplicato non impastate il secondo impasto. Adesso aggiungiamo tutti gli altri ingredienti. Quindi 55 grammi di farina sempre Manitoba. 20 grammi di zucchero. 25 grammi di tuorlo. 25 grammi di burro. Un pizzico di sale. E aromi a piacere. Io ho usato la fialetta di vaniglia. Voi se avete l'estratto molto meglio. Ne basterà un cucchiaio. Oppure se avete i semi della bacca di vaniglia. Come vedete nel secondo impasto ho messo tutto assieme. Poi ho azionato la planetaria e lasciato incordare. Intanto che la planetaria incorda l'impasto, io sporco con del burro il piano da lavoro. Come vedete è un impasto anche facilissimo. Ecco pronto il nostro secondo ed ultimo impasto. Adesso lo metto sul piano e lo allargo. Questo serve per far asciugare l'impasto. Allargatelo bene. E lasciatelo così scoperto per all'incirca una ventina di minuti. Dopo 20 minuti dategli una prima piega. E poi fatevi quest'altro tipo di pieghe. Sbattete e tirate verso di voi. Come vedete questo impasto di panettone secondo me non è molto difficile e non impegna poi più di tanto. Si incorda subito. Quindi è perfetto per chi vuole provare questa ricetta. Per chi vuole fare un panettone fatto in casa. Qui vi mostro lo stampo che uso io. Questo stampo è più rigido però è sempre da chilo. Quindi adesso trasferisco l'impasto nello stampo. Lo copro con pellicola e lo lascio lievitare a temperatura ambiente fino a quando non mancheranno 2 cm dal bordo. Ecco qui vi faccio vedere che l'ho messo su una teglia perché così è più facile spostarlo. E adesso che mancano un paio di centimetri l'ho scoperto ho tolto la pellicola e lo lascio a temperatura ambiente per all'incirca una ventina di minuti. 20-25 minuti perché si deve formare una leggera crosticina perché poi faremo la scarpatura. I 20 minuti sono passati quindi adesso con la lametta facciamo questa scarpatura. Per me è inutile dirvi che è anche la prima volta che la faccio perché logicamente è la prima volta che faccio il panettone. Questa operazione potete anche non farla però io ho voluto provare anche questa. Non bastava fare la prima volta il panettone ho voluto fare tutto il procedimento completo. Quindi dobbiamo fare prima un taglio a croce. Dovete incidere solo la pellicina superficiale che si è formata. Quindi i tagli devono essere leggeri. Potete usare anche un coltello ben affilato. La mia lametta non è tanto un granché, dovrò comprarne delle altre, però si riesce lo stesso. Adesso dobbiamo sollevare ogni angolo. Quindi afferrate il primo pezzetto di impasto del primo angolo, tirate verso di voi e tagliate contemporaneamente la crosticina. Dovete solo tagliare quella pellicina che si è formata. Come vedete è anche asciutta perché non appiccica. Ecco, tirate verso di voi e tagliate contemporaneamente. E appoggiate la punta sul bordo dello stampo. Dovete procedere così per tutti e quattro gli angoli. Non abbiate paura, come vedete l'impasto non si sgonfia. Adesso faccio anche la terza punta. Ecco, adesso faccio l'ultima. Ecco, qui abbiamo finito la scarpatura. Ecco, ok, la mia soddisfazione non vi dico quanta era. E adesso mettete sotto, ad ogni angolo, sotto ogni punta dove andrà poi richiusa la punta, un pezzetto di burro. Oggi nemmeno musica, come sottofondo perché c'è la musica live, dal vivo. Adesso richiudete le punte. E un ultimo pezzetto di burro al centro. E adesso, finalmente, siamo pronti per la cottura. Forno, già caldo, statico, 160 gradi per circa 55 minuti. Mi raccomando, se colorisce troppo, all'incirca dopo una quarantina di minuti, mettete un foglio di carta d'alluminio. Appena uscite dal forno, mi raccomando, bucate con uno spillone il vostro stampo. Io qui ho trovato leggermente un pochino di difficoltà perché lo stampo è troppo rigido. In effetti potevo bucarlo anche prima di inserire l'impasto. Però, con un pochino di forza, ce l'ho fatta lo stesso. Quindi fate passare lo spillone da parte a parte. Se non avete gli spilloni appositi, potete usare anche dei ferri da maglia. E adesso capovolgete il vostro panettone. Usate una pendola grande, oppure mettete due pendole al lato. Vedete un po' voi come organizzarvi. Deve raffreddare completamente così a testa in giù. Deve stare almeno 12 ore. In questo modo la cupola non crollerà. Sono passate 12 ore, finalmente togliamo i ferri e possiamo vedere il nostro panettone come è venuto. Guardate com'è morbido. Io, come prima volta, sono soddisfattissima. Veramente non ci speravo. Infatti ho fatto una registrazione proprio così perché non sapevo il risultato qual era. Però, visto che mi è piaciuto tantissimo, ho deciso di condividerlo con voi. Io vi ripeto, ho fatto la versione semplice. Voi potete usare le sospensioni che preferite, oppure farcirlo con una crema a vostro piacere, dopo cotto. Potete glassarlo, potete... Ma oppure farlo semplice come ho fatto io. Vi assicuro che questa ricetta vi piacerà tantissimo. Perché ha un sapore proprio come il panettone confezionato. Però la soddisfazione di farlo in casa è davvero tanta. Io adesso devo fare la prova a sangio perché logicamente mi tocca. È morbidissimo. È morbidissimo. Guardate come fila l'interno. E da questo si capisce che il panettone è venuto proprio benissimo. Sapore eccezionale. Che dirvi ragazzi? Io vi consiglio di provare questa ricetta. Poi ai giorni ne farò un'altra solo con il lievito di birra per gli amici che non hanno il lievito madre. Provatela ragazzi e poi fatemi sapere com'è venuta. Mi raccomando condividetemi sui social e continuate a seguirmi.